Ecco, questo è il terzo video dell'analizzatore d'antenna, ho cambiato il monitor, sto usando quello standard di Arduino a colori, queste sono le analisi dell'antenna con uno sweep molto elevato, tanto per dare un'idea delle capacità grafiche, lo si può connettere sempre allo stesso connettore che si usava per l'LCD, quello economico. Grazie.